E bentornati qua sul canale, io sono Fablinker e oggi siamo qua su FIFA 22 con la carriera giocatore. Allora, andiamo per gradi. Abbiamo Juventus contro Hellas Verona. Se vinciamo andiamo a meno 3. E sarebbe l'ideale, perché se oggi non vinciamo possiamo dire quasi addio al campionato. Detta come va detta. Poi magari io mi sbaglio, però oggi è importante vincere. Oggi sì, oggi sì. Perché se non si vince diventa un casino. Diventa veramente, veramente un casino. Quindi è fondamentale per il nostro percorso. A ruba sta palla però. Ripartiamo subito. Ripartiamo subito. Ma ti vede? Bravissimo. No, ma come ha fatto a sbagliare? A parte che non so perché di piede quando poteva andarci di testa. Da lì, vabbè. E due, perché era sbagliata? Forse è la cosa più importante. Errore madornale. Pato. Ma che mi combini, papero? Ma che mi combini? Passa sta palla. Dai. No, vabbè, rega. Ma che ha preso? Stavolta era bello il tiro, eh. Guardami. Guardami. Mano, mano. Anche se... Vabbè. Mano, mano, mano. Ancora Fekir. Ma cosa ho fatto di male io? Ma cosa ho fatto di male? Sbaglia tutti i rigori. È inguardabile sto uomo. È inguardabile. Non è il suo ruolo. Non è il suo... Mamma mia. È triste sta vita. È triste così però. Può metterla dentro. E che cavolo. E che cavolo. Questo è bello. Questo è bello. A Fekir. Ma che mi abbracci. Ma che mi abbracci. Anzi. Scompari. Mamma mia. Se fosse per te saremmo in zona retrecessione. Faremmo. Oh, comunque è incredibile. Se guardiamo le statistiche secondo me Fekir ha sbagliato almeno due rigori su tre. Almeno. Almeno. Se non di più. Cioè, Allegri è... Allegri è... Si può far del male. Non c'è altra spiegazione. Tierei meglio io con una... Con un... Con un piede rotto. Non era per lui la palla in realtà. Ma... Perché me la... Così me la data. Non capisco. Non era per lui. A per nulla proprio. A spazio. Babbo. Bravissimo. Oh. Ok. Non l'ha presa Fekir almeno. Se no ero già pronto veramente. Eh io. No. Era buona. Mano. Ancora Fekir. Ancora Fekir. Guardate eh. Come lo sbaglia. Mannaggia Fekir. Mannaggia. Ce l'ha fatta. È un miracolo. È un miracolo. È un miracolo. Mamma mia. Era un incubo. 2-0. Se arriviamo 2-0. Fini del primo tempo. Esco. Se facciamo il 3-0. Esco anche subito. Così risparmiamo su... Per fare altre partite. Bravo. Eh vabbè. Però brutto passaggio. Fatto. Brutto passaggio. Tocca spazzare mi sarà il portiere. Cosa fa? No vabbè. Ma cosa ha fatto? Ma cosa ha fatto Pato? Vabbè raga. Io direi che dopo questa si può anche uscire. Il mio l'ho fatto. Ho preso due rigori. Ho fatto due gol in mezz'ora. Direi che sono a posto. No mister? Direi che ci sono. Simuliamo. 3-1. Se non riuscite anche a subire. Ricorda questo Verona che era inguardabile. Veramente inguardabile. Bene. 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 Sono molto contento. Ora c'è la Coppa Italia. Quarti di finale. Partita secca. Ahimè. Secca. Chiesa attaccante. Perché chiesa attaccante e raspadori esterno? Va bene. Cioè per me va bene. D'altronde. Io dico più che altro per loro. Non è proprio il massimo. Però. Se loro sono contenti. Io sono contentissimo. Chi sono io per essere triste. Pronto a darsi battaglia. Per regalarci un grande spettacolo. Un caloroso saluto da Piero Gipardo. Con me come sempre Daniela Dario. Bravo pato. Quattro a caccia del pass. Per le semifinali di Coppa Italia. Mi aspetto un match giocato su ritmi elevati. Se lo bevi. Ho sbagliato. Ho sbagliato il passaggio raga. Ho sbagliato il passaggio. Colpa mia. Qui veramente colpa mia. Devo dirlo. Mannaggia mea mannaggia. Bardi. Occhio all'avanzata dei viola. Dai Fekir. Bravo Fekir. Un lavoro difensore. Ma perché? Non sono un giocatore da corsa io. Quando è che lo capirete? Dai. Pato. Pato. Interessante questa. Attenzione. Hanno il pallone per colpore. Perché? Perché? Mamma mia. Stavo per segnare. Era un gol meraviglioso in caso. Guardami qua. Bravo Fekir. Era buona. Era buona. Era buona. Era buona. Tentativo troppo morbido per creare problemi al portiere. Non era fatto. Eh vabbè. Sono sbilanciatissimi. Rega. Fortuna che questo. No niente. Sto zitto. Sto zitto. Cioè. Era riuscito anche a sbagliare il controllo. Aveva fatto il fighetto. Stato. Ma in un gol. Ma comunque l'ha fatto lo stesso. Non ci posso vedere. Non ho aperto le marcature con questo gol. Uno a zero. Non ci posso credere a gol che abbiamo subito. Vabbè. Vabbè. D'altronde. Ci sta. Col mangiato col subito. Io me lo son magnato il gol. Pato. No. No. Che poi in realtà manco volevo passarla alla X. Era per chiamare il passaggio. Ma vabbè. Che è? Nostra. No. McKennie sì. Vabbè. Vabbè. È ancora lì. Non perdiamo la speranza. Oh. Comunque c'è sto terracciano che sembra Neuer dei tempi belli. Ma guarda. Ma guarda che cross ti ho fatto. Ma guarda che cross ti ho fatto. Sul serio. Stavolta. Bellissimo. L'ho visto. Libero libero. Se sbagliava questa. Ti mandava a zappare la terra. Ti mandava a zappare. Era un cioccolatino. E' appena arrivato il primo gol in due partite. Quindi qualcuno ha comprato a Juventus. Vabbè. Buono sapersi almeno. Ci tengono un po'. Dirigenza. In FIFA ci tiene un po'. Nella realtà. Ma. Non lo so. Vediamo cosa fa ora. Proprio un gioco. Proprio un gioco. Dai. Mamma mia. Ho sbagliato un passaggio facilissimo. E' solo colpa mia. Era fuori gioco no? Sembrava un po' avanti la cosa. Però. Sapete. Non si sa mai. Ma perché? Ma perché? Poi così piano. A rallentatore. Ma per quale motivo? Se mi ha passato a veloce è arrivato tranquillamente. Vai Fekir. Vai Fekir. E' io che ci credo. E' io che ci credo. Vabbè. Stavo per dire. Perché non sono andato avanti? Ho fatto bene. Ho fatto bene. Ho fatto bene. 2 a 1. Si sta rivelando un ottimo episodio. Continuiamo così che. Potrebbe essere la svolta. Questo episodio. Potrebbe essere la svolta. Di tutto. Si affidano al possesso. Per costringere la difesa a scoprirsi. Giocata che non porta a nulla. Fin qui? Non c'è stato un grande possesso palla da parte della formazione ostite. Il dato però conta relativamente oggi Pier. Bravo. E' vero che fin qui la palla ce l'hai tu e non gli avversari e quindi rischi di meno. Ma per vincere alla fine ci vogliono i gol. Ma cavati. Ma cavati. Se non ti cavai forse. Non dico che era gol però forse arrivava in porta. Quanto meno nello specchio della porta. E non troppo alta. Come poi è successo. Peccato. Era una buona occasione questa. Va bene 2 a 1. Comunque non possiamo lamentarci. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. Che ci dà al momento la qualificazione. Al momento. C'è il Monza che sta anche lui in quartiere di finale contro il Napoli. Vai a capire. Soltina che dà il via alla ripresa. Bravo Pato. Ma perché? Ma per quale motivo sto passaggio lungo? Fortuna che ci hanno regato la palla. Grazie. Gentilissimi. Non dove vale. Cosa fa? Non si è capito comunque. No vabbè di Rovega. Pure fuori gio... Pure deviata. No perché così? Ma perché così? Non ho capito sta... Mossa scellerata. Chiesa. Ma non l'ho capita veramente. Chiesa. Chiesa. Chiesa che si infida a una buona rete di passaggi. Guardami. Intervento fondamentale evitato che il pallone entrasse. Perché? Ma perché? Ma anche i passaggi. Ma perché Fekir? Perché esisti Fekir? Guarda che roba. Il degno del miglior Bentancur. Vai McKennie. Vai McKennie. Vai McKennie. Niente. Ci ho provato. Ci ho provato. Ma sto lancio sbilanchissimo. Per chi non si sa. Nella prateria mia. Boh. Non si è capito. Artur. Consalo Ghedesh. Fatto. No. Fatto. No. C'è spazio per arrivare. Siamo un po' stanchini eh. Però se anche tu... Vabbè che io sarò stanco. Ma adesso va per l'incoglionito. Infatti. Infatti. Sarà dura. Sarà molto dura. Ora che siamo stanchi poi... Ora ha messo Di Bala. Ora. Un po' otto anni di bestemmie. Non detto ovviamente. Però vabbè. Guarda. Mannaggia. Se fosse un pochino più alto Di Balino. Se fosse un pochino più alto. Colpa mia che doveva passata alta. Quando lui in realtà... Alta non è molto comodo. No. Non vedo davvero... No. Marcalo bene. No. Vabbè ragazzi. Ma che cavolo. Sta succedendo. Ma cosa sta succedendo. Aiuto. Ma veramente. No. Ma vi pare. No. su un suo palo. 3 a 2. Partita molto spettacolare. Cosa fa Arthur? Ma cosa fa? Ripassa la segnalità... ...la posizione giusta per tirare. Passa. Ci penso io al massimo. Lecce bene la traiettoria qui. Può prendere la mira. Ed eccolo. Di bala non sbaglia. Di bala non sbaglia. 3 a 3. Grazie al mio assist. L'ennesimo della stagione. Ha sfruttato direi molto bene l'assist. L'ennesimo. E' venuto fuori una conclusione sul primo palo. Che sorpreso il portiere. Che forse non se la spettava. Ci voleva. Ci voleva. Abbiamo assistito a 6 gol. 3 a 3. Grande spettacolo. Dai. Andiamo da vincere. Andiamo da vincere. Andiamo da vincere. No. Di bala. No. Altro che Fekir ragazzi. Altro che Fekir. Fekir manco. Allora c'è le scarpe di bala. E' troppo scarso questo tino. Troppo leggerino. Che è successo? Non l'ho capito. Di assegna punizione contro la Fiorentina. Ma perché lì? Brutto passaggio. Ma di bala. Che lì si è fumato un cannone. Per fa' sta roba. In questi ultimi due minuti. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Non è possibile. Si festeggia dopo si festeggia. Non mentre. Cioè boh veramente. E' che le ha chiamata lì nessuno. Tra l'altro. Vabbè. Comunque. Dovevo aspettarmelo forse. Conoscendo il gioco. Prova ancora un assalto. Ma mi sa che si va a supplementari ancora. Mi aiuto. Io non ce la posso fare a reggere anche i supplementari. La tira che si affida a una buona rete di passaggi. Se dovete giocare. Non è un po' di due minuti. E alla fine perdono palla. Ma perché me? Cabral. Occhio a Dybala. Guarda lui. Hai perso il tempo. Perché? Ma porca miseria. Porca. Mannaggia tutto. Mi fa arrabbiare. Mi fa arrabbiare. Ha perso il tempo perfetto per creare in porta. Sembrava fatto apposta. Sembrava. Sembrava fatto apposta. Ragazzi. A me queste cose veramente mi danno nervoso. Adesso ci aspettano i supplementari. Tocca a fare i supplementari che sto accotto come un cece. Napoli ha vinto. Noi no. Noi no. C'è sto a correre solo io. Ma raga. Ma serio? Cioè non posso fare tutto io ragazzi eh. Su. Qualcuno deve correre anche per me. Che sono un vecchietto morto stecchito. Eric Fulgaard. Chiesa. Luba sta palla. Può crossarla da lì. Chiesa. Luba sta palla. Niente eh. Non ce la possiamo fare. Niente da fare. Il difensore recupera. Bravo. In controtempo Pato. Cosa state facendo raga? Io boh veramente. No no. Non così. Non così Arthur. Quanto si è scarso Arthur mio. Quanto si è scarso. Adesso subiamo eh. Ma perché? Ma perché? Con quale logica? Con quale logica? Santo Dio. Un quale logica? Vabbè. Primo tempo è andato. Cioè è secondo. Però dobbiamo segnare. Io ai rigori non posso farcela ragazzi. Io ai rigori non posso farcela. Cioè veramente. Muoio prima. Muoio prima. L'arbitro può pescchiare. Non è umano. Non è umano. Ai rigori no. Ai rigori no. Tutto ma non è umano i rigori. Puntuale qui il difensore nel recupero. Arthur. Allora niente. Non è facile rubare di palla eh. Allora va benissimo i rigori. A me è un po' meno però. Vai avanti. Vai avanti. Perché? Perché? Non è giusto. Non è giusto. Non è giusto. Non è giusto. Non va avanti Paolo. Non va avanti. Martínez. Io vorrei un attaccante che andasse logica. Non una stupidità. Tipo vè? Aurega c'è. Chiesa. Se posso spavare ha anche rotto in teoria eh. Fiorentina che si affida una buona rete di passaggi. La perdono. Ultimazione. L'ha concesso un solo minuto di recupero. Vai di bala. Cossa in mezzo. Ma è da solo. Era da solo. Era da solo. Era da solo. Era da solo. Non usano la testa. L'intelligenza artificiale è stupida. Veramente assurdo. 13 tiria 5. Ma c'è Sni però c'è manco ti butti. Perché se la sono giocata la schedina? Per forza. Non lo muovo io. C'è Sni ha ok. Oh una al centro la parata almeno. Ce l'ha fatta. C'è Sni ti prego. C'è Sni ti prego. No vabbè rega. No così no. Aleksandre. Pato. C'è Sni. C'è Sni. Deve metterla dentro a tutti i costi. Sì. Isperato. 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 Non ci si crede. Non ci si crede. Mamma mia che partita di me. Vabbè rega. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Il nostro l'abbiamo messo. Abbiamo segnato anche il rigore. Quindi va bene così. E' perfetto. Mamma mia che fatica. Mamma mia che partita faticosa. Dominata in realtà. Dominata. Una fatica però per portare a casa tre punti. Che sembrava di essere. Di fa chissà cosa. Ma boh vabbè. E contro la tranta sto benissimo eh. Sto in forma meravigliosa. Ma porca miseria. Allora ragazzi. Io mi faccio l'ultima. Ma per un motivo ben preciso. Se vinciamo. No. Siamo a meno tre. Se Milan perde. Noi potremo con una vittoria andare sotto a Milan. Sarebbe. Sarebbe bello. Sarebbe bello. Non lo so se succederà però. Sarebbe molto molto bello. Sì. Ovviamente noi ci presentiamo mezzi. Mezzi rotti. Ma questo lo sappiamo. Mi porta a casa tutto lo spettacolo. Non so cosa dire. I voti c'è in clima partita. Il loro contributo può essere ovviamente recitato. Atalanta sta ottava. In teoria non dovrebbe essere la classica Atalanta complicata. Però. La sfida promette di regalarci gol. Spettacolo. Vai a prenderci insomma. No. Perché non l'ho passata? Questi in difesa stanno un po' aperti per caso. Leggermente. Ammazza che bel tiro Arthur. Mamma mia. Ma che bel tiro Arthur. Gustoso questo tiro di Arthur. E' una delle stelle in capo a quest'oggi. Tre gol nelle ultime tre partite. Ecco il biglietto da visita. E' in buona posizione. Qualcuno che... Io aspettavo qualcuno raga. Cioè non è che posso fare tutto io eh. Sono già stanco. Dopo dieci minuti sono già stanco. Aiuto chiamatemi non so un medico o qualcosa. Fatemi una bomba d'ossigeno. Perché qua mi sa che sarà dura. Oggi sarà veramente dura. E vabbè poi si fanno sti passaggi. Se fanno sti passaggi... È dura sì è dura. Poi se Dedict si mette a fare il portiere è ancora più complicato. Mannaggia mannaggia tutto Dedict. Perché loro li fanno i rigori e noi no? Domanda? Che loro li fanno? Noi no. Noi non possiamo farli. Perché? Questa cosa? Questo rattismo? Ma cos'è? Ma cos'è? Era buono il passaggio però... Il mio tiro no. La vedo male. Non so perché. La vedo veramente male. Lettura perfetta e palla recuperata. Bravo Pato. Meraviglioso. Vabbè. Poi c'è Arthur che si vede il suo. Vabbè. Pato. Ma ci ho provato io. Ci ho provato. Ci ho provato. Non è bastato. Vorremmo beccare una ripartenza. Un rigorino come loro. Noi noi rigori li sbagliamo. Loro no. Non ho mai visto laia sbagliare il rigore ora che ci penso. Se ne ho ricordo male. Io non ho mai visto sbagliare il rigore. Mai mai mai. Occhio al tocco e mezzo. Recupera il pallone e il portiere. Invece i nostri anche troppo. A corso un bel rischio. Non sarebbe mai potuto arrivare su quella conclusione. Potevano essere avanti di due. O Fekir. Ha negato loro il gol dell'occasione di primo. Vabbè che sei un... Vabbè raga. Però come cazzo la giochiamo? Cioè veramente. Non entra non entra non entra non entra non entra non entra. Sceglie l'appoggio. Locatelli. Che cavolo è successo raga? Scelgono il fraseggio. Forse dovrebbe alzare un po' il ritmo se vogliono trovare il pari. Interviene Spazza. Non so cosa sia successo. Un rimpallo stranissimo. Veramente stranissimo. Possesso gettato via. Consalo che desce. Duello tutto di forza. Digno. Intercetta bene in zona pericolosa. Si ti fa anticipare così però. Loro stanno a fare un sacco di sbagli. Loro veramente tanti sbagli. Ma non riusciamo a fare nulla noi eh. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Che poi l'istinto del portiere. Cavolo. Se non prendeva quella. Era un portiere. Un po' problematico eh. Si oppone al tiro. Fatto. Dice di no anche a questa. Non sono fortunato oggi. Ho avuto a sfruttare se vogliono il pari. C'è il tocco corto. Ci prova. Non la buttiamo dentro neanche a porta vuota. Neanche a porta vuota. E' incredibile. E' incredibile. E' incredibile. Neanche a porta vuota. Manco se le buttiamo dentro con tutta la cattiveria del mondo. Si riesce a... A infilzare questa porta. C'è il segnale dell'arbitro comincia in secondo te. Non è normale sta cosa eh. Ero da solo qui. Il possesso palla per aprire la difesa avversaria. Tentativo di cross. Prova a spazzare ma male qui. Gonzalo Guedes. Palla respinta. Nessun dubbio per l'arbitro. E' arrivato il calcio di rigore per palo di mano. C'è il vantaggio. Per chi e ti prego. Risultato che potrebbe tornare in parità. Ma vai a cagare vai però santo Dio. Ma scusatemi però non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Non è normale sta cosa. Non è normale. Altro rigore. E' imbarazzante questa cosa. Imbarazzante. Guarda guarda. Guarda guarda. Oddio. Ce l'ha fatta. 1-1. I nostri sono molto più soggetti a sbagliare i rigori eh. Qualsiasi squadra della CPU invece è perfetta. È perfetta. Questa cosa veramente è sbagliatissima. È sicuramente un po' scriptata leggermente. Dai ora andiamo a rivaltare questa partita. Ma va che fechiera fatto i 10 gol. Se non sbagliava tutti quei rigori era 78 gol in stagione. Ci sono metri a disposizione. No. 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 Non era male questa idea. Dovevo passare la prima in realtà. Ho sbagliato io il tempo. Però. Comunque era un'idea non da scartare la mia. McKennie ha fretta. McKennie ha fretta. di fare il passaggio. Mi fa tutto il movimento lento. In slow motion. Sarà uno scontro tutto da seguire. Da quello che si è visto nelle precedenti uscite. Ci attegna la parte della giocata viso aperto. Con tanto cosiddarete da una parte e dall'altra. Bravissimi. Ecco Kuluzeski. Oh. Da lì può crossare. Oh. Vabbè. Vabbè ci siamo raga. Ci siamo. Ci siamo. Non stiamo giocando male. Ecco poi arrivo io. Ci sono un coglione. E perdo la palla. In modo veramente bruttissimo. Recuperano bene palla. L'hai fatto. Fatto. Prova dalla distanza. Mano. Mano. Grossa ingenità qui. Raga. Una punizione pericolosa. Sì. 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 È il mio primo gol su punizione. È il mio primo gol. Non l'avevo mai fatto. Vi giuro. È il mio primo gol. Incredibile ma vero. È il mio primo gol. Ecco qui il replay del gol. Ha preso la mira. È il mio primo gol. Nel momento più importante della stagione. Arriva il mio grosso punizione. Oh. 2 a 1 è buono. Mi piace come risultato. Manteniamolo così. Anzi. Facciamo il 3 a 1. A metri davanti a sé. Attenzione. Sarebbe ancora più importante. Recupera la palla. Intercettando bene il pallone. Guadagnano la dimessa laterale. Poteva fare molto meglio su questo fallo laterale. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Grande calcio protagonista sulle frequenze di EITV con questo match che promette spettacolo. Entrambe hanno giocatori in grado di fare la differenza. Io ho apprezzato in particolare l'idea che hanno i due tecnici di un calcio votato all'attacco. Mette in area di rigore. Che cavolo ha preso questo? Che cavolo ha preso questo? L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Palla verso il centro dell'area. Azione che sfuma. Locatelli. Sventa il pericolo. Ah, ci ha provato a inventare calcio. Occhio al contrasto. Sarebbe un po' fallo, eh. Leggermente, leggermente. Messier, leggermente. Ma porca, ma porca. Che amarezza comunque. Gioco amaro. Assaggio intercettabile. Gioco amaro questo. Ancora 5 minuti di ragionare. Non ti fa mai sognare. Devono spezzare gli indugi se vogliono provare a vincere questo match. Ha perso il pallone. Di bala. Fatto. Non concede nulla all'attaccante. Grande sofferenza per i tifosi in quest'ultima partita. Questo 2-2 è rubato, è rubato. Pezzerebbe l'equilibrio. Ottima l'alettorazione. Ma c'è ancora tempo. Ma c'è ancora tempo. 120 secondi. Questa è l'entità del recupero. Ma perché? Ma porca di una... Porca... Perché? La domanda che ti voglio fare è perché? Ma... Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, basta. Però oggi va bene così, eh. No, veramente, dai, è imbarazzante sta cosa. È imbarazzante, è imbarazzante, è imbarazzante. Manco il mio gol di punizione è bastato per vincere questa partita. Milan-Lazio, eh, potrebbe uscire un buon risultato per noi, però. E invece no. E invece no. Meno 5, meno 5. Vediamo il mercato come va. Ma non credo che ci saranno grandi novità di sorta. Vediamo un attimo, dire di no. Sto tutto abbastanza tranquillo, sembrerebbe. Tanto chi ce vuole ormai? Chi ce vuole? Nessuno comunque, veramente, eh. Siamo a fare un campionato assurdo, nessuno che neanche l'offertina, boh. Mi sembra strana come cosa. Parecchio strana. La Juventus acquista Vlaovic. Un po' in ritardo, eh, leggermente. Acquista Vlaovic per farlo stare in panchina e far giocare il papero. Mi sembra una cosa normalissima. Mercato astutissimo da Juventus. Allora, meno 5 punti. Manca ancora tanto, in realtà, eh. Allora, cioè, la prossima volta Empoli, Inter e Salernitana. L'Inter in Coppa. Sarà importante il prossimo episodio. Vediamo cosa riusciamo a fare. Sarà importante. Vediamo se c'era qualche... Vabbè, non ci interessa. Niente, a posto. Ragazzi, io direi che per oggi può essere tutto. Questa rincorsa a Scudetto è sempre più complicata. Non riusciamo proprio ad agganciare e superare questo Mila in maniera tranquilla. No, non ce la possiamo fare. Ma ci proveremo. Questo sicuramente sì. Ragazzi, intanto io vi saluto con un 76 posto di un 80 così a caso. Pato cala così. Si sveglia la mattina. Mister, ma devo calare, devo aumentare. Vabbè. Un po' strana la vita a volte, eh. Un po' strana. Ragazzi, alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.